Da Mara Bizzotto, per chiederle due cose, ripartirei dai discorsi relativi all'Europa. Perché per esempio, un imprenditore importante italiano oggi, Mario Moretti Polegato, presidente di Geox, dice alcune cose rispetto anche alla situazione economica, alla congiuntura economica generale, però dice che l'escalation di tensioni in Europa, come appunto quelle tra l'Italia e la Francia, è la cosa che mi preoccupa di più, perché tutto questo può avere conseguenze molto negative sui rapporti commerciali, in un contesto appunto in cui l'economia, diciamo, internazionale fatica. Poi c'è, tra le tante interviste di oggi, una critica per esempio alla manovra, alla legge di bilancio del governo, che arriva da un economista e uno storico che certo non è un avversario di questo governo, cioè il professor Sapelli. Il professor Sapelli dice, attenzione, la recessione internazionale sta iniziando, per l'Italia, diciamo, non è ancora iniziata, ma dobbiamo stare attenti, e uno dei nostri problemi è che nella manovra mancano gli investimenti, una cosa che riguarda sia l'Italia sia l'Europa, cioè anche l'Europa non sta pensando agli investimenti. Ecco, vorrei cominciare da queste due cose con lei, poi andiamo alla questione migranti. Sì, io vorrei dire una cosa all'amica del PD. Lei dice di volere un'Europa diversa. Sì. Ricordo al PD e a lei che da decenni l'Europa è governata dai socialisti popolari, sono dentro la Commissione, sono stati presidenti del Parlamento europeo, sono artefici di questa Europa che a noi non piace. Potevate cambiarla prima, non siete più credibili da questo punto di vista. E poi la questione francese, il direttorio francese, sinceramente stupisce io vedere due paesi che ammettono sostanzialmente la crisi dell'Europa, perché si ritrovano tra di loro. D'ora in poi ci sarà un direttorio franco-tedesco e decideranno prima il da farsi. Io pensavo che ci fosse ancora un'Europa a 28, a 27, evidentemente non è così. Quindi oggettivamente qualcosa non torna. Pollegato e preoccupato del rapporto con i francesi. Io sarei preoccupata dell'atteggiamento dei francesi che ha nei nostri confronti. respinge gli immigrati e pretende di darci lezione. Si tiene i latitanti, ovviamente terroristi. Vorrei chiarezza su questo punto di vista. Quindi da questo punto di vista la Francia, che come è stato ricordato, a differenza dell'Italia, le piazze piene di giubbini gialli, e questo dovrebbe sinceramente tranquillizzare anche gli imprenditori italiani e veneti a questo problema. Quindi onore all'Italia e complimenti al governo italiano che sta tentando di dare risposte agli italiani con dei provvedimenti miracolosi, a mio avviso, perché in otto mesi abbiamo svoltato sulla questione migrazione, abbiamo svoltato sul problema della povertà. 5 milioni di proveri sono opera del PD, della signora che la vedo inquadrata. Quindi ragazzi stiamo tentando di rimediare a danni enormi fatti da governi di centrosinistra dal 2011 in poi. L'Europa è stata governata da voi, non da noi. La Commissione è governata da voi, non da noi. Schultz è il suo amico, mica mio amico, Tajani, che vuole un'Europa diversa. Poteva anche lui contribuire a cambiarla prima. Quindi accusare ora partiti coraggiosi, governi coraggiosi come il nostro, che dice che l'Europa va cambiata e che vuole un'Europa di popoli e non un'Europa governata da Bruxelles, dalla Merkel o da Macron, credo sia una cosa sacrosanta.